Buongiorno amici, bentrovati, è una domenica di lutto, vorrei unirmi al lutto facendovi sentire un pezzo importante. Senti Maurizio, hai fatto il vaccino? Eh? Hai fatto il vaccino? Io sì, sì. Io ancora no, sono un po' più giovane, fra poco mi tocca. Senti, che cosa ti senti di dire? Hai no bus Maurizio, vorrei una risposta secca da te, che so che insomma... Se andassero via dall'Italia, non si rompessero le scatole. Bravo Maurizio, bravo, bravo. Io non li sopporto, perché sono la causa, anche loro, della pandemia che non sparisce. Ma se ne rasano via, quando io sento un ingegnere no bus, ma venga cacciato dall'ospedale. Infatti adesso l'ordine dei medici ha messo delle sanzioni che poi equivalgono a licenzione. Ma ha fatto bene. Voi preparati. Assolutamente. Sentite, vabbè, cosa volete che vi dica? Cosa volete che vi dica? Vi faccio una citazione, eccola. Fuori dalle palle, fuori dalle palle, Maurizio! Ciao, ciao, ciao!